Il mio rapporto con Amedeo Tessitori comincia da avversario ed è sempre stato d'avversario fin da quando piccolo e un po' cicciottello si affacciava nel panorama cestistico toscano. Poi sfortunatamente per me lo ho incontrato con lui che è migliorato molto e mi ha fatto dei gran mazzi anche a livello professionistico, ultimo dei quali in una finale playoff per salire dalla 2 in Serie A 1 con Treviso. Il mio rapporto con Marco Sedini principalmente è iniziato sui campi da gioco perché ci siamo sempre incontrati sul campo e abbiamo avuto sempre dei bellissimi scontri come la finale per la vittoria del campionato di A2 e quindi il passaggio in A1 e poi alla fine l'incontro vero e proprio è stato in questo periodo per iniziare questa collaborazione. A me mi serviva una guida, un aiuto dal punto di vista del basket, volevo fare un programma intenso e completo e ovviamente Marco Sedini ha un curriculum di tutto rispetto, è una bravissima persona, un bravissimo allenatore e quindi ho deciso, ho chiesto a lui questo aiuto. Mi sono sentito con lo staff della nazionale e abbiamo impostato un lavoro tecnico anche attinente a quelle che ci sono le esigenze personali di Tex per riuscire a migliorare alcuni dei suoi aspetti fondamentali per lo sviluppo della squadra e allo stesso tempo una profonda attenzione ai carichi di lavoro in perfetta coesione con quelli che sono i piani del suo preparatore fisico e ovviamente con la sua società di club.